Ciao a tutti Buongiorno Buongiorno In fondo ci sono due ragazzi che non si fanno vedere Si intravedeva che si stanno nascondendo Eccola lì Franci bo Dove stai? Dove sei? Franci? Aspetta Mario No Sì sì avevo le cuffie non l'ho sentito Sto qua sto qua Avevi le cuffie? Sì Comunque c'è anche L'incuffiettato In fondo E niente siamo in macchina Stiamo andando a farci un giro Andiamo a fare un po' di spesucce Andiamo a fare un po' di shopping Perché appunto è iniziato il freddo E ci mancano un po' di cose Ci mancano E niente quindi andiamo a fare un giro E li portiamo con noi Giusto Nadia? Sì Ok Ciao 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 Grazie a tutti. 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 Guardate che c'è qui, andate lì, andate lì, andate lì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.